Musica Ben trovati dalla redazione di Telebari, un saluto a chi ci segue su Radio Bari. In apertura la cronaca ladri imbizzarriti, giornata nera ieri sul fronte di furti e rapine a Bari. Tre nel giro di poche ore. Il resoconto da Cristina Ferrini. Due rapine e un furto milionario sono stati messi a segno ieri nel giro di poche ore a Bari, l'ennesima giornata di una città in preda dei malviventi. Il primo colpo intorno alle 14 all'altezza delle officine calabrese, dove un 63enne alla guida di un BMW 318 è stato avvicinato da due giovani a bordo di una moto che gli hanno puntato la pistola e si sono fatti consegnare l'auto. I due avevano il volto coperto da casco integrale, sono fuggiti ad alta velocità lasciando perdere le proprie tracce. Dopo poco più di un'ora nell'appartamento di uno stabile in via Putiniani, i ladri hanno messo a segno un furto di gioielli per un valore di oltre 30 mila euro insieme ad un pc portatile e una fotocamera digitale. I malviventi si sarebbero introdotti dalla porta usando chiavi modificate. Nel mirino della criminalità anche un'agenzia di scommesse hanno i cattaro. Ieri sera tre persone, di cui una armata di pistola, hanno fatto irruzione nel locale. Si sono fatti consegnare l'incasso della giornata, ancora in corso di quantificazione. Sull'episodio indagano polizie e carabinieri. Una piantagione di 28 piante di marijuana tra i 75 e i 120 centimetri è stata scoperta e sequestrata ieri pomeriggio dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Bari Centro. Il rinvenimento è avvenuto nell'ambito di un mirato servizio volto a prevenire e reprimere reati concernenti le sostanze stupefacenti. Le piante erano all'interno di un terreno demaniale incolto in buono stato vegetativo e per un peso complessivo di circa un chilo. Indagini sono in corso per identificare i responsabili. Ma cambiamo argomento. È duro scontro tra la Regione Puglia e il Tribunale Amministrativo Regionale sulla Sanità Pugliese. Il Tar venga a fare l'assessore e le ultime ordinanze a carico della Regione immobilizzano l'attività regionale, già difficile a causa di un deficit sanitario a cui far fronte. È la denuncia dell'assessore regionale alla salute Tommaso Fiore. Il servizio è di Michele Di Trani. È guerra aperta tra l'assessore regionale alla sanità Tommaso Fiore e il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia. Il Tar venga a fare l'assessore e governare la spesa sanitaria con un piano di rientro del deficit sanitario in corso e con il Tar che vuole sostituirsi alla Regione Puglia è impossibile. E il grido d'allarme è lanciato stamani dall'assessore regionale Tommaso Fiore, che stamani ha convocato una conferenza stampa per denunciare alcune delle ordinanze messe negli ultimi tempi dal Tar e rivolgere un appello ai cittadini a farsi sentire. Una riguarda la clinica privata antea ospite all'esterelle. L'ordinanza ordina alla Regione Puglia, invocando anche responsabilità penali, di pagare un'eccedenza di circa 15 milioni di euro rispetto al tetto massimo di spesa stabilito nella delibera di giunta di accreditamento della clinica privata, ma è opposta dalla stessa. La decisione del Tar, che contraviene la delibera di giunta regionale, si basa su una dichiarazione rilasciata da un funzionario regionale che dava parzialmente ragione alle antea in un tavolo tecnico in cui la Regione Puglia chiedeva alla clinica di emettere delle note di credito a fronte di fatture messe per gli importi che sforavano il tetto di spesa. Ma non è finita, ha dichiarato Fiore, a sé più grave l'ordinanza del Tar, che ha messo nel nulla la legge regionale che vietava i direttori regionali delle ASD di accreditare centri di riabilitazione fuori regione, ordinando di ripristinare i contratti con gli stessi, mettendo i manager sanitari nell'impossibilità di operare con una legge regionale da una parte che non possono violare e un'ordinanza del Tar che li obbliga a fare atti contrari. Adesso bisogna ripensare interamente al problema del rapporto tra pubblico e privato nella regione e in parte perché queste ordinanze sono, a mio avviso, frutto di una confusione generale che esiste nel Paese in cui ciascuno fa la parte che non gli compete. Da un punto di vista generale se ne esce semplicemente se i cittadini si svegliano un po' in questo Paese, un po' addormentato. Ora la regione Puglia confida nel Consiglio di Stato, dove ha fatto ricorso avverso le ordinanze. Intanto il piano di rientro del deficit sanitario, che prevede il taglio di circa mille posti letto, sarà pronto nei prossimi giorni, lo ha dichiarato l'assessore Fiore a margine della conferenza stampa. Il no agli obiettori di coscienza nei consultori pugliesi deciso dalla Giunta vendola finisce in Parlamento ed è subito polemica. Cristina Ferrini. La delibera regionale sulla riorganizzazione dei consultori pugliesi spacca l'Italia in due e finisce sui banchi del Parlamento. Da una parte il PDL attacca la Giunta vendola accusando il governatore di voler trasformare i consultori pugliesi in abortifici. In una dichiarazione questa mattina il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano ha ribadito l'illegittimità della riorganizzazione della rete dei consultori pugliesi approvata dalla Giunta regionale. Dall'altra gli assessori firmatari della delibera 735, Tommaso Fiore e Elena Gentile, difendono le ragioni del provvedimento affermando che non è in atto alcuna discriminazione dei medici obiettori, solo la ferma volontà di garantire la piena applicazione della legge 194 e la tutela dei diritti delle donne. La delibera di Giunta dello scorso marzo sul potenziamento della rete consultoriale di fatto esclude da eventuali concorsi pubblici i camici bianchi anti-aborto. Per questo motivo una decina di medici cattolici hanno presentato ricorso al TAR di Bari chiedendo l'annullamento del provvedimento in questione. L'assessore Fiore ha assicurato che non verrà fatto alcun bando di concorso discriminante. Il provvedimento, ha spiegato, nasce dalla constatazione del ruolo del tutto insoddisfacente in Puglia dei consultori nella pratica delle interruzioni di gravidanza, una situazione che ha dato luogo, dice Fiore, ad un largo fenomeno di privatizzazione. Immediata la risposta del sottosegretario Alfredo Mantovano, lasciare nei consultori, come pretende la regione Puglia, soltanto i medici non obiettori trasforma gli ambulatori in distributori di certificati per abortire. Ogni giorno decine di donne approdano in Puglia per l'assunzione della pillola RU486.